Gli auguri di buon anno, soprattutto perché ci aspetta un anno impegnativo, decisamente, in cui ci saranno tante sfide importanti per il futuro del nostro continente, per il futuro della nostra unione politica, che è provata, come sapete, da conflitti, è provata da una situazione internazionale davvero non semplice, quindi noi abbiamo bisogno di ritrovare forza e sappiamo che alle prossime elezioni noi ci giocheremo la possibilità di procedere sul percorso di integrazione europeo, il percorso immaginato dai nostri padri fondatori, oppure se neesorabilmente spostare all'indietro le lancette dell'orologio e dar ragione quindi a chi invece professa l'idea di tornare indietro rispetto ai nazionalismi vari e ad un'idea sbagliata di Europa, di Europa delle piccole nazioni. Quindi l'appuntamento elettorale è decisamente importante, quello che si giocherà a giugno e siamo qui ovviamente con tanti amici per parlarne e per fare un'analisi insieme. Toccherà anche a lei, considerando la vicina scadenza elettorale, mettere a posto un po' i cocci per ciò che riguarda il partito a livello provinciale? Sicuramente il partito vive una situazione non semplice, non tocca a me, tocca alla nostra comunità politica riscoprire il senso e l'orgoglio dell'appartenenza a questa grande famiglia politica che è quella del Partito Democratico che è stata casa di grandi italiani, di grandi europeisti che si sono fatti onore sia nel nostro paese che all'estero, un nome su tutti, David Sassoli, quindi riscoprendo l'orgoglio di questa nostra appartenenza, di questo partito che comunque è stato fondamenta, importante per la costruzione dell'Europa e per il rafforzamento del nostro paese, io penso che dovremo mettere da parte le polemiche e concentrarci invece finalmente sulla politica Auguri Grazie